ciao a tutti sono titan e oggi sono tornato con questo nuovo video è un video un po diverso al solito anticipo già e anche mi scuso per non aver pubblicato molto negli ultimi tempi ma mi sto concentrando su altre cose tra cui il primo canale e di cui avevo già parlato in una live ma saprete altre cose in futuro e quindi non ho avuto tanto tempo di registrare su titan però oggi sono tornato qui con un video un po diverso dal solito come detto già all'inizio perché oggi è uscito il primo mixtape del mio fratello Sneauz immagine mixtape composto da sette tracce e anche se io ho pochi iscritti e faccio poche visual il mio intento è far arrivare magari ad alcune persone anche se sono due tre o una sola in più rispetto quelle che raggiunge lui da solo con i suoi social con il suo canale youtube perché è un ragazzo veramente intraprendente e che sa indubbiamente rappare e sono sicuro che farà strada e quindi mi è sembrato giusto dargli uno spazio sul mio canale seppur breve per dire che sono veramente contento per lui che abbia intrapreso questa strada e inoltre il mixtape è una bomba me lo sono appena ascoltato tutto e mi è piaciuto un casino inoltre vi invito a passare anche da Old Dirty Mafia che sarebbe un magazine composto a lui e ad altra gente molto molto capace che conosco qui vi lascerò il link sia di appunto di Old Dirty Magazine scusate Old Dirty Mafia Old Dirty Mafia Gruppo Facebook vi lascerò sia il link per il canale youtube Disney House e anche quello del canale Instagram scusate del profilo Instagram di Old Dirty Magazine perché sono forse forse la realtà più interessante a livello dal punto di vista ovvero dei magazine in Italia non come quella merda di CMC no sto scherzando ovviamente non come CMC e S Magazine che per quanto siano più famosi e anche sono anche bravi sono persone competenti in ODM troverete qualcosa che negli altri appunto magazine non c'è e spero che con questo video video gli arrivi qualche follower in più anche se ne arriveranno due tre io sarò contento perché comunque li avrò aiutati a salire a crescere tornando al mixtape beh è un po' vecchio stile diciamo se così si può definire però è veramente è veramente rappato bene prodotto bene è anche un big up a Meteos che ha fatto le che ha fatto le cover di tutti di tutti i pezzi le grafiche ovviamente e che sono anche quelle una bomba il mio pezzo preferito è abissi ma tutti tutti sono sono belli e si intersecano tra di loro per creare un'atmosfera davvero interessante e per un emergente è tutt'altro che normale fare un progetto di questa qualità d'esordio un progetto d'esordio già di questa qualità beh direi che ho legato il culo a Snihauts o DM abbastanza e noi ci vediamo al prossimo video che molto probabilmente sarà la recensione di Timeless la serie tv non so se c'è anche un film e alla prossima